Cosa succede tra Stati Uniti e Cina per l'ennesima volta? La speaker della camera Nancy Pelosi è andata a Taiwan, ha provocato la Cina, Cina ha risposto, c'è casino, disordine in città e dobbiamo assolutamente fare chiarezza per capire 1. come reagiranno i mercati e 2. come ci possiamo fare soldi. Ma poi parliamo anche, e leggo, di 9 grafici, il prezzo da pagare, elimina il rumore, la religione, il trading e Soros sul funzionamento dei mercati. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi, insegno come guadagnare sui mercati senza diventarne schiavi e questo è il Bazzi Editoriale. Ci troviamo una volta a settimana da anni, ne avrò fatti 100 di Bazzi Editoriale, anche se si chiamavano rassegne stampa, per fermarci un attimo, prendere le notizie, gli articoli di approfondimenti, le opinioni delle settimane e capire dove c'è il segnale e dove c'è il rumore. In questo mondo di informazione, in ogni dove, ogni secondo, siamo completamente immersi, sommersi, travolti dall'informazione, noi dobbiamo prendere esclusivamente quell'1%, quel 2% di informazioni che ci fa fare più soldi, perché questo è l'obiettivo. Il trading non è altro, si parla di soldi che si fanno, il resto è teorie, accademiche, ok? E questo è l'obiettivo del Bazzi Editoriale. Direi di iniziare subito dopo la sigla. Eccoci qua, allora, in descrizione ovviamente c'è l'articolo, con tutti i link, io vi invito caldamente a cliccare da approfondire, dovete usare la testa, mi raccomando. Allora, per sviluppare questo discorso tra Stati Uniti e Cina, io nel mio famosissimo quaderno mi sono segnato 5 punti. 5 punti non rappresentati tecnicamente da articoli, perché non ho trovato articoli in modo che mi potessero aiutare a spiegare questi 5 punti. Il quinto sarà la soluzione, cioè cosa effettivamente fare. E nel quarto ho qualche articolo, effettivamente, che ho trovato qua e là. Allora, il punto numero 1 da capire, ovviamente se non avete sentito la notizia, un po' abitate su Marte, ma basta andare sul post.it e un articolo. Ve l'ho detto nella intro, semplicemente la leader, la speaker della Camera è andata a Taiwan, Taiwan è un problema per la Cina perché la considera sua, Taiwan non si considera della Cina, e quindi è sempre stato motivo di screzio tra Stati Uniti e Cina. Punto. Punto numero 1, le news non riguardano i mercati. Oh ma come Francesco, le news muovono i mercati, assolutamente succede, è successo qua, là, su, giù. Sì, attenzione, il modo in cui si muovono i mercati, la quantità di spostamento che fanno, non è sempre significativo. Le news spesso muovono i mercati, quasi sempre succede qualcosa sui mercati quando c'è una news. Da qui a dire, le news formano i mercati e quindi noi dobbiamo usare le news per manipolare, per usare i mercati, per fare più soldi, ce ne passa tantissimo, ce ne passa tantissimo. La maggior parte delle volte le news non ci permettono di fare, di avere un approccio sistematico ai mercati, perché dipende, ogni tanto salgono, ogni tanto scendono, ogni tanto salgono tanto, ogni tanto salgono meno, a meno che non siate i trader discrezionali, è difficile starci dietro e soprattutto non è sicuramente il main business, cioè la strada principale da seguire. Abbiamo i sistemi che fanno esattamente tutto il contrario, paradossalmente. Punto numero due, le news non significano profitto. Attenzione a stare dietro alla singola news, no perché io leggo ultima ora, ultima ora l'SP 500 sale più 2% a causa di questa... È già andata. Nel momento in cui tu stai dicendo questa cosa è già andata. Il livello di efficienza del mercato in questi anni è molto buono, risponde molto bene alle notizie, perché le informazioni sono condivise come non mai, ok? Quindi è inutile anche stare e cercare la notizia per fare il profitto. Voi dovete fare il profitto, punto. Se lo fate sulla notizia, ok, perfetto, non c'è problema. Se lo fate senza notizia, ok, perfetto, non c'è problema. L'enfasi, il focus è completamente diverso. Punto numero tre. Effettivamente, Stati Uniti e Cina stanno dando un cambio, stanno mettendo in atto un cambio di leadership mondiale. Ray Dalio ha scritto questo suo nuovo libro, un nuovo ordine mondiale, ha fatto anche i video su YouTube. Vi invito caldamente a seguire Ray Dalio e leggere tutto quello che scrive, perché è una persona molto intelligente. La sua ultima teoria, del suo ultimo studio, è che prende come punto di riferimento proprio questo scontro Stati Uniti e Cina, perché sembra, cioè Ray Dalio suggerisce che gli Stati Uniti perderanno il loro ruolo da leader del mondo, no? Abbiamo il dollaro come valuta più forte, gli Stati Uniti sono l'economia più forte al momento, hanno i mercati più forti, eccetera. Ray Dalio vede uno shift, uno spostamento di queste cose, un turnover, un'altra parola inglese a caso, e la Cina sarà il nuovo leader mondiale. Questa analisi è fatta abbastanza sui dati. La mia domanda è, ci dà elementi per capire effettivamente cosa succederà? Secondo me, no. Secondo me, no. Perché se dovesse succedere, sicuramente non succede entro i primi dieci anni, ma è palese. I mercati finanziari cinesi sono molto, molto più involuti di quelli statunitensi. L'economia statunitense è comunque ancora migliore. La Cina ha un sacco di problemi ancora, interni di funzionamento, eh, non sto parlando di politica, di funzionamento. Quindi, questa cosa sarà un po' lontana del tempo e devono succedere un po' di cose perché avvenga. Questo per dire che se Ray Dalio dice che c'è questo shift e tu metti nel tuo portafoglio di investimento la Cina, è un problema. Non andrai a fare soldi, questo è andato di fatto. Se metti nel tuo... no, basta perché non so quanto si possa investire in Cina. Metti delle azioni, ma le azioni sono quotate, le azioni quotate negli Stati Uniti sono cinesi, ma in realtà hanno sede alle Bahamas, robe di questo genere, perché non si può tradare direttamente le azioni cinesi. Quindi, di cosa stiamo parlando. Punto numero 4. Questo shift è dato anche dal fatto che gli Stati Uniti stanno vivendo un'ulteriore recessione. Questa recessione è anche il sintomo del capitalismo statunitense che sta fallendo, quindi effettivamente noi dovremmo, tradotto, disinvestire negli Stati Uniti e approcciare la Cina. Beh, in questo caso abbiamo un po' di articoli che ce lo dicono, che sono molto interessanti, di Michael Butnick, di Quartz, un altro di Michael Butnick e di, non mi ricordo mai come si chiama, Jack Raines. Chi si sa come si pronuncia. Vediamoli brevemente. Allora, questo di Michael Butnick dice che... C'è una frase che ha detto che, se non sbaglio in questo articolo, che è molto interessante, che... dice che si corregge, dice che aveva sbagliato e che, nonostante alcuni dati indichino come è possibile una recessione, ad esempio, il prodotto interno lordo, il PIL, il GDP statunitense, è sceso per due trimestri consecutivi. Questa è tecnicamente una recessione. Ma tecnicamente una recessione è una definizione accademica. Cioè, una persona si è seduta su una scrivania e ha detto, come definisco una recessione fatta da mille fattori? Quindi, prendiamone uno, il PIL, due trimestri consecutivi negativi. Punto. Una recessione fatta di molte più cose. E quindi lui dice, ah, ma quindi non basta più? Stiamo, diciamo così, spostando il traguardo, spostando i paletti che ci siamo dati? Sì, in realtà, sì, perché l'economia e i mercati sono più difficili di quanto noi pensiamo. Non sono sempre bianco e nero, fai questo, dai finita, no? Come quando ho chiuso il Batshop, pochi giorni fa, io ho smesso di vendere il singolo sistema, perché le persone continuano a cercare il sistema. No, mi spiace più complicato di così, di avere un portafoglio, che io chiamo portafoglio scrocchierello performante, ma il principio è quello. Non c'è la strada facile, è sempre un po' più complesso di così. Quindi, lui dice, nella sostanza, è che i dati dicono che non c'è il sottostante per una recessione economica negli Stati Uniti. Lo afferma anche, vabbè, punto, in questo articolo dice questa cosa qua. Non c'è il sottostante, il tasso di disoccupazione è clamorosamente basso, è il 3,6%, ragazzi, sono 350 milioni di persone, ma ci rendiamo conto di quante poche persone non stiano lavorando. È assurda la salubrità del mercato lavorativo statunitense, che non è perfetto, ha comunque alcuni problemi, ma la disoccupazione non è uno di questi problemi. Come non è uno di questi problemi la capacità di spesa degli statunitensi, che hanno un sacco di soldi, come non è un problema il fatto della salute finanziaria. Ragazzi, poi ne parliamo nel Buzz Monitor questo weekend, ma a me proprio non sembra che i mercati stiano ascoltando la recessione. Cioè, avete l'effetto di salami sugli occhi? Ma ci rendiamo conto di cosa è successo dal minimo, sull'SP500, più 15% quasi? Di cosa stiamo parlando? E se i mercati anticipano l'economia, qualcosa inizia a suonare. Tante persone stanno iniziando a cambiare approccio. Su Quartz c'è, è interessante perché sottolinea la complessità e l'arzigogolamento della cosa. Cioè, c'è la recessione, forse, ma l'occupazione sta bene. La Fed sta alzando i tassi e quindi stringe il credito? Sì, però gli statunitensi comunque hanno altissime capacità di spesa e continuano a spendere. Poi, la fiducia dei consumatori vacilla? Sì, appunto, però stanno continuando a investire. I CEO stanno preoccupandosi per l'inflazione perché effettivamente è un costo. Gli istituitori? No. Carano i prezzi del gas, ma l'inflazione no. Cioè, cosa succede a questa cosa qua? Perché a qualcosa che succede ad A non corrisponde a qualcosa che succede a B? Perché l'economia è complessa. E perché non c'è questa dannatissima recessione? Non c'è altro modo per dire. Non c'è. Tutte le persone che continuano a dire, no, finito tutto. Chiamate i vostri familiari all'inizio e della fine. Ok, potrebbe essere, ma i dati non ce lo dicono. Ragazzi, guardiamoci negli occhi. Non è questione di essere ottimisti, pessimisti, complottisti o non complottisti. Non c'è sta roba qua. C'è il pericolo, c'è l'inflazione, c'è l'avviamento dei tassi di interesse. Ok, ma non c'è la recessione fisicamente, economicamente parlando, non c'è ancora. Magari ci sarà, ma non c'è ancora. Questo dice, è un po' uno sfogo che fa ancora Michael Butnick, che dice, ci sono talmente tanti problemi. Io voglio trovare la frase, per riassumere, sono confuso. Questa mi ha fatto schiantare, perché lui, teoricamente, non dovrebbe dire una roba del genere. Lui, se non ha una lista, dovrebbe dire, funziona così, funziona cos'ha. No, non funziona così, non funziona cos'ha. Bisogna prendere le informazioni, separare il segnale dal rumore, prendere le informazioni che ci interessano e fare soldi. In questo caso, c'è la recessione degli Stati Uniti? No. C'è casino, la Cina diventerà il padrone del mondo, i remi in bis, la la valuta... No, non c'è sta roba qua. Quindi io metto i miei sistemi reversal sugli indici, continuo a fare soldi con i trading system, c'è il mio portafoglio di investimenti che sta bene, contemplando comunque la discesa, considerando comunque la discesa, punto, c'è tutto il resto, è rumore, è qualcosa che vi distrae, vi distrae, è fondamentale questa cosa. Perché non faccio soldi? Perché perdi tempo, denaro, attenzione, che sono tutte le diverse facce della stessa cosa, dietro questa roba qua, Nancy Pelosi, Hawaii, finito tutto. No, non è finito tutto. Non è quello il focus, il focus è, stai facendo soldi? No. Perché? Per Nancy Pelosi? Per Xi Jinping? Per Biden? Davvero? No. Non stai facendo soldi perché non hai trading system giusti, non li stai mettendo in linea giusta, e non stai costruendo il tuo portafoglio scocchiarello performante. Sono questi i problemi. Ok? Poi, quest'ultima è interessante perché, dice, mette il focus, mette l'enfasi su, esistono due mondi diversi. Uno è quello che viviamo quotidianamente, uno è quello accademico, teorico, dei macrosistemi, dell'economia, tra virgolette, in generale. Noi l'inflazione la stiamo sentendo. Anche in Italia c'è un'inflazione del 7,9%, cioè il costo dell'energia è molto alto, il costo di alcuni beni stanno aumentando. Lo vediamo sul nostro portafoglio, come gli statunitensi, lo vediamo sul nostro portafoglio, poi c'è scritto c'è recensione o non c'è recensione. Io questa roba come la vedo nelle mie tasche? Non c'è questo contatto, no? Il mio mondo, il tuo mondo, quello del tuo portafoglio, è completamente diverso. Quindi bisogna cercare di non far sì che si mischino nella tua testa, perché poi tu pensi che farai soldi se ci sarà Trump o Biden. No, non ti deve fregare assolutamente niente, ti stanno confondendo e tu ti stai facendo confondere. Ti stanno confondendo, eh? Chart, nuove grafici. Di nuovi grafici si parla un po' di recessione, ovviamente, ma ne abbiamo già parlato, non voglio insistere più di tanto. Il aumento dei tassi di interesse sta continuando e probabilmente continuerà. E c'era una cosa che mi interessava, è sulla bolla immobiliare. Cosa succederà al mercato immobiliare statunitense, che non è mai stato così alto, che sta apprezzando più del doppio del 2007 pre-crisi, insomma, pre-scoppio della bolla del mercato immobiliare statunitense? È una bella domanda, è una bella domanda. C'è da dire che il mercato immobiliare è sicuramente interessante da monitorare, perché ci dice tanto ed è chiaramente una bolla, ma è doppiamente importante capire perché è una bolla, perché poi noi capiamo che cosa fare in merito. Ok? Comprare, vendere, investire, non investire. Che cosa fare nel merito? Scrivi pure adesso nei commenti. Secondo te questa, uno, è una bolla, due, devi scrivere se... No, devi scrivere se è una bolla, quando scoppierà? Quando inizierà a scendere? Ed è interessante perché si parla di comportamento dei mercati. Qua passo velocemente a Soros, che dice che i mercati non sono altro che qualcosa di irrazionale, di assurdo, che non segue gli standard del mondo reale, perché si basano sulle nostre aspettative. Cioè le bolle sono esattamente questo. Cioè si parte da un concetto e poi la alimentiamo noi, persone, i mercati sono il risultato di una moltitudine di persone che fanno cose diverse per incentivi diversi. Punto. Non c'è altro. Ok? È ovvio che le bolle siano nel funzionamento del mercato finanziario, non sono qualcosa di esterno, non sono un'anomalia. Non è un'anomalia il fatto che l'SP500 abbia fatto il meno 30% a marzo del 20% o abbia fatto il 20% o meno adesso. Non è un'anomalia. Un po' perché c'è la regressione verso la media, un po' perché il mercato è frutto, è conseguenza delle nostre paure, delle nostre perplessità, delle nostre incertezze, della nostra avidità, voglia di guadagnare, voglia di cogliere l'occasione per quello che poi sale e poi scende. Funziona così. Basta dire, non dovrebbe comportarsi così, dovrebbe salire e poi scende. Non te ne devi fregare. Tu devi avere un sistema che guadagna se uno sale o guadagna se uno perde. Punto. Spero che questo basso editoriale vi dica cose, vi dica cose. Poi, il prezzo di ammissione, che è tradotto in realtà, è tradotto più decentemente, ah, ho un'admission, ok, va bene. E sostanzialmente dice, per guadagnare tanto, ti serve perdere. Perché? Perché nella natura dei mercati. Come dei sistemi, eh, ragazzi. Stiamo parlando anche dei sistemi. Cioè, io ho un sistema che sovra-performa, e dentro questa sovra-performance, però, ho un 2020 che fa zero. Zero vuol dire 12 mesi di zero guadagno. Vuol dire che è una sofferenza colossale. Ma come faccio ad avere i profitti se ogni due o tre mesi non faccio un mese negativo? Non esiste l'alternativa, ok? Io ho un trading system che sovra-performa, ma che non può fare strutturalmente ogni mese positivo. Quindi io prendo ciò che posso prendere, cioè i profitti, ad esempio, di un sistema come questo qua, che è l'esecutore sull'SP500, sapendo che potrà fare un mese negativo. Perché è nella natura dei mercati. È qualcosa che dobbiamo accettare. Così come per le azioni. Io ho Apple, il portafoglio, ho Bershire, ho Accenture, non è un consiglio di investimento, io non do consigli di investimento, non mi rompete le scatole, ti stanno perdendo. Perché stanno perdendo? Perché è dentro la logica che poi mi fa fare il 20% all'anno con queste azioni. Sempre parlando di azionario, questo articolo è molto interessante perché dice, sostanzialmente alla fine dice, non fidarti di ciò che ti raccontano, del rumore. Vai dritto al punto, guarda i dati. Fa due confronti tra due azioni, una con un pie molto alto, tipicamente un'azione gross, con un'ottima però crescita degli utili, con il ROA negativo, vuol dire che non fa ancora, non è netto positivo, quindi sta perdendo soldi, con una buona debito, eccetera, eccetera, con un'altra che invece ha un pie più basso, quindi il prezzo di verni più basso, è un ROA molto alto, quindi fa tanti soldi, molto netto, cresce un pochettino meno, ma ha meno debito, cresce molto bene, eccetera, eccetera. Sono delle aziende molto diverse. La maggior parte delle persone va a comprare la A, perché si fa infinocchiare dalla narrativa, dal rumore, no, vai, sali sul carro vincente, fai un sacco di soldi, hai fatto il 74%, lo farei anche tu, guadagni subito in fretta, senza sforzo, un po' come dire, metti in pista il singolo sistema, ci siamo capiti. La realtà è dei fatti, è che alla fine uno è Tesla e l'altro è Apple, Apple sono 30 anni che fa il 20% medio anno. Tesla non sta andando male, non è quello il discorso, non è quello il discorso, ma se non avessi preso Tesla a 50 dollari, non avresti guadagnato granché. La maggior parte delle persone su Tesla sono entrate qua, quando già, no, scusami, 2020, qua, quando poi al picco facciamo, che sono entrate qua, hanno fatto il 77% in un anno e basta. E adesso sono a al 35%, in due anni e mezzo, 35% in due anni e mezzo non va bene con un'azione, non va affatto bene. Apple, perché non c'è questo? Ecco qua. Apple che scende per carità, tanto per dire, tra l'altro, nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi, ha fatto il più 30%, ok? E dal 2010 ha fatto il 2425%, ok? Gisto per dire, questo è un esempio, non ti far fregare dal rumore, dalle crisi, dalle assurdità, dal sta cambiando tutto, è finita. il tuo unico focus deve essere o una strategia che mi fa guadagnare soldi, sì o no, che non vuol dire guadagnare ogni giorno, vuol dire avere una strategia che ti fa guadagnare soldi, che ti fa trarre profitto da un vantaggio del mercato. La religione della speculazione, sono un po' stanco, ne parliamo un'altra volta, che sostanzialmente dice, se hai torto, sei torto. Punto. Devi essere disposto a cambiare idea. Può essere tradotto come devi essere disposto a mettere in panchina un trading system, devi essere disposto a cambiare il tuo portafoglio, devi essere disposto a comprare un'azione che non avresti mai voluto comprare, devi essere disposto a non tocchiciare il tuo portafoglio di investimenti lungo termine quando sta perdendo perché sei nel panico, quando lo vorresti fare. Devi darti torto, ma forse questo, farò un video in merito a questo articolo. Se sei arrivato fino a qua, commenta con luce blu, commenta con luce blu per farmi sentire il tuo supporto, condividi, clicca mi piace, sottoscriviti, iscriviti al canale e condividi questo basso editoriale. Detto questo, io ti auguro uno splendido weekend, se vuoi approfondire il trading automatico, tutti i link in descrizione del mio percorso Trace Qualqueria per principianti è una meraviglia per iniziare anche da zero. E ho detto buon weekend, ci vediamo con il basso editoriale e tutti i link in descrizione compresa la newsletter gratuita, quotidiana con un sacco di informazioni meravigliose sul trading e sui mercati. Ciao!